Ciao ragazzi e bentornati sul canale, bentornato anche a me, visto che ho latitato praticamente per un mese e mezzo. Ragazzi, è stata veramente dura riuscire a rimettersi davanti alla telecamera, lo ammetto, ve l'ho detto anche su Instagram, ma finalmente rieccomi qui e ricominciamo con un unboxing, per poi ripartire da martedì prossimo con la normale programmazione potteriana. Anche se oggi c'è un piccolo assaggio potteriano anche in questo unboxing, perché ho cominciato proprio con un video di questo tipo, perché ragazzi ho la camera in basa di pacchi, perché tutto agosto ho continuato a ricevere cose e quindi questa è una parte della roba accumulata. E come avete visto ho dovuto fare addirittura due mucchi perché non sapevo dove metterle. Ma prima di cominciare ragazzi vorrei fare una piccola premessa, perché io prima di andare in vacanza mi ero ripromesso che avrei portato dei cambiamenti al canale, mi ero ripromesso che avrei aumentato la qualità, avrei utilizzato un microfono che ho da parte non so neanche più da quanti mesi, che avrei fatto più live, quindi ragazzi io non ho fatto nulla di tutto questo alla fine, perché mi sono lasciato prendere dall'ozio, dalle vacanze e dalla bella vita. Però adesso che sono qui voglio comunque cominciare ad applicare delle novità piano piano da qui a Natale, quindi piano piano qualcosa dovrebbe cambiare e mi riprometto soprattutto di fare qualche live perché me lo chiedete spesso. Bene, detto questo ragazzi dovevo togliermi questo peso dalla coscienza perché mi sentivo davvero troppo in colpa per essere mancato così tanto, possiamo riprendere col nostro canale. Quindi eccomi qui più carico che mai e partiamo dal primo pacco che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal, quindi saranno sicuramente dei Blu-ray ma non ricordo assolutamente quali sarebbero dovuti arrivare. Quindi strappiamo tutto e vediamo il contenuto. Ce ne sono ben due. Il primo è il Blu-ray 4K delle Tartarughe Ninja di Michael Bay, quello con Megan Fox. Io questo lo vidi al cinema qualche anno fa quando uscì e ragazzi mi era cresciuto davvero tanto, forse preso anche dalla nostalgia visto che io con le Tartarughe Ninja ci sono cresciuto con i cartoni animati e mi piacevano un sacco, avevo tutti i pupazzi, Maestro Splinter, Shredder, avevo di tutto e di più, chissà che fine hanno fatto, meglio non chiederlo a mia madre perché potrebbe rischiare la vita. Ma comunque ragazzi, ma a me a parte, questo qui è assolutamente consigliato perché è una versione due dischi ed è strapieno di contenuti speciali, quindi non vedo l'ora di andarmelo a spucciare. Ma mi hanno mandato anche un secondo film ed è Mamma Mia, è il Blu-ray del decimo anniversario. Io questo film lo avevo visto e ragazzi, proprio in questi giorni, è arrivato al cinema Mamma Mia 2, il secondo film che non ho ancora visto ma che spero di andare a vedere con i miei amici quanto prima perché comunque è uno di quei film che mette tantissima curiosità. Perché ragazzi, diciamolo chiaramente, chi se lo sarebbe mai aspettato che ci sarebbe stato un Mamma Mia 2 visto che questo è uno dei grandi classici dei musical. E quindi sono davvero molto curioso di andare a vedere quale storia si sono inventati e quanto regge questa storia. Io direi che dal trailer le aspettative sono molto alte e molto positive, quindi vi farò sapere magari anche di questo. E vi consiglio questa edizione decimo anniversario soprattutto perché è anche in questo caso strapiena di contenuti speciali come il making of, il karaoke, il commento del regista, i camele, le scene tagliate, c'è davvero di tutto e di più. Quindi per gli appassionati io ve lo consiglio e vi lascio i link sotto per acquistarli su Amazon. Ma adesso andiamo avanti, io direi di continuare con questa pila qui, ok? Così smaltiamo questa. Questo è un pacco che invece mi arriva da HarperCollins ed è un libro che ho richiesto io e vi spiego anche il perché. Perché sono una pippa stratosferica su Instagram. Non riesco a fare belle foto, non so come facciano tutti gli altri, le mie foto sono sempre bruttissime e grazie per chi mi seguite lo stesso. E ho richiesto questo libro che avevo visto tra le novità di HarperCollins ed è Come fare foto perfette per diventare star di Instagram di Sarah Beards. Ragazzi, io avevo bisogno di una guida, di qualcosa che mi aiutasse a migliorare le mie foto e penso che questo volume possa fare al caso mio. È pieno di foto, di illustrazioni, di consigli per chi vuole intraprendere questa strada. Io, ragazzi, non mi sono mai dedicato tantissimo a Instagram ma mi viene sempre più richiesto dalle aziende e quindi devo sempre continuare a postare e migliorarmi anche lì. E quindi, ragazzi, che ve lo dico a fare? Mi raccomando, seguitemi su Instagram, trovate sotto tutti i riferimenti. E, ragazzi, tornando a parlare di questo libro, è scritto da Sarah Beards che è una fotografa professionista che ha oltre 70.000 follower su Instagram, quindi sicuramente ne sa molto più di me. E quindi, chi meglio di lei può darmi dei consigli per imparare a migliorare le fotografie da mettere sui social. Quindi, io lo reputo molto molto interessante. È un cartonato, è davvero di buona qualità la fattura del volume. Costa anche poco, il prezzo di copertina è 15 euro e vi lascio il link sotto in info box. Per chi volesse saperne di più, i contatti sono sempre a vostra disposizione. Vi farò sapere la mia opinione in merito. E adesso passiamo a questo altro mega pacco, ragazzi. Questo pacco mi è arrivato poco prima delle vacanze e stanno aspettando questo unboxing da qualcosa come un mese. Quindi sono sicuro che non mi manderanno più niente ed hanno anche ragione. Però adesso lo andiamo ad aprire, anche perché ho dimenticato cosa volevano mandarmi. E quindi lo scopriremo assieme, mi sa. Ed eccolo qui. Abbiamo un pacco anonimo con caratteri cinesi e poi uno zaino. Questo qui, adesso lo ricordo, lo volevo per andare a Berlino e poi alla fine invece ho portato quello mio perché non avevo potuto aprire questo pacco. Ed eccolo qui. Si tratta di uno zaino di Xiaomi. E tutti ne parlano molto molto bene e quindi mi piaceva l'idea di portarmelo in vacanza. Il materiale sembra davvero molto molto bello di questo zaino. Abbiamo anche il cartellino con il logo Mi di Xiaomi. E questo zaino all'interno promette di avere tante, tantissime tasche. Quindi vediamo se è vero. Una frontale che è molto capiente. Poi ne abbiamo altre due qui sui lati. Sono delle tasche molto strane, angolari. Ma anche queste molto comode sia a destra che a sinistra. Poi ne abbiamo un'altra qui sulla parte superiore frontale. Quindi vediamo cosa nasconde all'interno. Altre tasche, ragazzi c'è davvero di tutto. Anche tanta carta, quindi la togliamo. Anche in questo caso abbiamo diversi scompartimenti. Qui addirittura una sorta di borsellino con altre tasche sul retro. E poi abbiamo ancora un'altra tasca più grande. Qui sembra davvero molto molto resistente, ragazzi. Anche qui porta computer, possiamo mettere diverse cose, molte tasche. Mi sembra davvero un ottimo ottimo zaino, ragazzi. Ve lo consiglio, non costa neanche tanto. Vi lascio il link sotto in info box. Costa davvero pochi dollari. Non costa tantissimo. E può anche essere infilato nel trolley. Quindi molto molto comodo. Mi sembra davvero un ottimo prodotto. Davvero bello anche al tatto. Presumo sia anche impermeabile. C'è di diversi colori. Peccato davvero non averlo potuto portare con me a Berlino. Mi sono dovuto accontentare di uno zainetto di Decathlon. Ma questo qui mi avrebbe davvero fatto comodo. Perché è super super capiente. Quindi grazie mille Banggood. Ma scopriamo cosa contiene questa scatola. Perché non ne ho la più pallida idea. Credo sia qualcosa che abbiano aggiunto loro, di loro iniziativa. Quindi vediamo cosa c'è qui dentro. Ok. C'è un cilindro. E dentro questo cilindro, tutto scritto in cinese, All'interno non lo aprirò mai ragazzi. Ok. Dentro c'è una ventola. Cerchiamo di capire di cosa si tratti. È una ventola. Credo sia una sorta di ventilatore. Ultimamente tutti vogliono inviarmi ventilatori. Ed ha questa parte qui in similpelle. Beh, sembra carino. Non ho idea di cosa poterci fare. Però è bianco. È abbastanza stiloso. E questa fascia qui in similpelle bianca ha anche il suo perché. È un ventilatore a doppia ventola con ingresso USB che non si può staccare. Quindi resta collegato. È strano. È strano. Sembra molto resistente. Quindi, grazie e ben good. Presumo che questo qui ormai lo possa conservarlo. Visto che le temperature stanno cominciando a scendere. Però per l'anno prossimo potrebbe essere molto molto interessante piazzarlo qui sulla scrivania a giugno e luglio perché ogni volta che registro i video muoio dal caldo perché non posso accendere il climatizzatore che fa un casino e presumo neanche questo perché farà più casino del condizionatore. E dopo aver dato una bella ripulita alla scrivania ragazzi, continuiamo ed ecco qui un pacco che è palesemente già aperto non sto qui a far finta di aprire le cose perché l'ho aperto su Instagram dato che era un mio acquisto l'ho fatto su Amazon d'impulso e non vedevo l'ora di averlo tra le mani quindi l'ho aperto su Instagram motivo in più per seguirmi anche lì e si tratta dell'edizione limitata Disney della Steelbook di Coco Coco è uno dei film Pixar che mi è più piaciuto nell'ultimo periodo e ragazzi, quando ho visto questa edizione davvero, mi è piaciuta un sacco perché non si vede forse tanto dalla telecamera ma questa chitarra qui è totalmente disegnata con tutti i personaggi del film e le ambientazioni del film anche questi fiori rilevo sono molto belli così come il retro è un'edizione molto speciale perché è composta da ben tre dischi e abbiamo il film in 3D il film normale in 2D e poi abbiamo anche un bonus disc con una montagna di contenuti speciali sulla produzione, realizzazione del film delle musiche e di tutto il resto davvero molto molto bello ragazzi ve lo straconsiglio edizione limitata costa circa 20 euro e trovate il link anche di questo in infobox quindi questo lo mettiamo da parte togliamo questa scatola e poi passiamo all'acquisto potteriano ragazzi questa scatola che sembra una maracas l'ho acquistata ancora prima di andare in vacanza sarà stato metà giugno ed è ancora qui chiuso sigillato quindi non potevo aspettare oltre non volevo farci un intero video dedicato perché sarebbe stato forse un po' noioso e adesso vi faccio scoprire di cosa si tratta qualora non lo avessi già spoilerato nella copertina e ragazzi si tratta del Brickettes di Lego di Harry Potter questo qui doppio pacco tutto ammaccato per fortuna non si tratta di un Funko Pop questo qui doppio pacco pagato meno di 20 euro non ricordo esattamente forse 15 addirittura non ricordo e abbiamo Harry ed Edwige quindi questa doppia confezione molto molto carina poi troviamo anche la confezione singola con Hermione che costa poco meno di 10 euro e un'altra confezione doppia con Silente e Ron io intanto per cominciare ho voluto prendere questa qui di Harry ed Edwige rispettivamente 49-50 pezzi quindi un centinaio di pezzi di Lego qui dentro e non vedo l'ora di montarlo e naturalmente una volta fatto lo vedrete prima su Instagram senza dubbio e poi lo metterò anche qui sulla mia scrivania in uno dei prossimi video potteriani quindi in ogni caso lo vedrete e ultimo pacco di questo primo video unboxing del grande rientro è un pacco che è arrivato giusto questa mattina e si tratta di un pacco di pampling ragazzi vi ricordo che col codice 7 potter avrete sempre e per tutti i vostri ordini uno sconto del 15% io ho acquistato di recente questa qui anche questa se non sbaglio mostrata su Instagram della casa di carta con scritto Bella Ciao e Berlino col fucile in mano mi è piaciuto un sacco l'ho presa subito d'impurso e adesso ho acquistato un altro paio di belle cosine eccole qui e adesso ve le vado a mostrare ho anche preso una peppa in previsione di giornate più fredde quindi togliamo tutto e cominciamo da questa qui che è a tema trono di spade visto che forse non l'avevo mai acquistata a tema trono di spade ho visto questa e mi è piaciuta tantissimo se solo riuscissi ad aprirla ok andiamo con le maniere forti ed eccola qui è una maglietta in stile Ikea eccola qui abbiamo Valar Morghulis nel logo Ikea e poi Jantronen quindi il trono di spade e abbiamo le istruzioni su come realizzare il trono di spade a me è piaciuta davvero tantissimo quando l'ho vista è molto semplice e quindi l'ho presa io di solito acquisto la S perché vestono un tantino grandi come misure io non sono magrissimo e la S mi sta quindi così magari potete regolarvi poi ho acquistato quest'altra col personaggio Marvel che più mi piace in assoluto e si tratta di ecco qui Doctor Strange anche questa qui non avevo mai preso una maglia a tema Marvel e mi è piaciuto molto questo design io non lo dico mai ma questi design sono inviati da utenti poi vengono votati scelti dal pubblico e alla fine Pampling realizza delle magliette in edizione limitata quindi sono tutti i design originali di altri utenti molto molto bella secondo me anche questa è una S e come vedete è abbastanza comoda abbastanza grande e per finire ho preso anche questa che come taglia sempre S era in super offerta tipo 12-13 non mi ricordo comunque sotto i 15 euro se non sbaglio vi lascerò il link anche di questa in infobox ed è una felpa in stile estate anni 80 e ritorno al futuro eccola qui abbiamo Doc e Matti su un motoscafo mi è piaciuto un sacco e quindi l'ho presa mi piaceva anche perché era blu e perché ha il cappuccio quindi tutto perfetto come piace a me e anche questa qui è una S e la utilizzerò nei prossimi video quelli un po' più freddi un po' più invernali quindi ragazzi fatemi sapere se vi piacciono queste maglie che ho scelto questa volta e soprattutto ragazzi fatemi sapere voi quali avete acquistato e quali mi consigliate perché ogni volta il catalogo pampling è talmente vasto che mi ci perdo ci passo le ore sopra e dopo aver concluso un ordine mi accorgo che magari ci sono altre magliette molto belle che avrei potuto acquistare quindi fatemi sapere sotto nei commenti bene ragazzi per questo video unboxing del rientro è tutto spero ci siano cose che possano essere di vostro interesse e fatemi sapere anche questo nei commenti noi ci rivediamo martedì con il primo video potteriano della nuova stagione e ragazzi che dire bentornati e grazie per avermi aspettato ciao ciao